. Grande fratello, spunto il nome di una nuova conduttrice, Belen Trema?. Grande fratello, Belen Rodriguez o Anna Safroncic, chi condurrà il reality show?. Il grande fratello senza VIP sta per tornare. Il reality show più seguito dItalia vedrà arrivare in tv persone del tutto sconosciute al mondo dello spettacolo. A quanto pare, la prima puntata è attesa per il mese di gennaio 2018. . In tutto ciò, si inizia a pensare a colei che vestirà il ruolo della conduttrice. Il pubblico è abituato a vedere Alessia Marcuzzi, ma le cose sembrano pronte a cambiare. . A quanto pare, Endemol vorrebbe dare una bella svolta al programma, partendo proprio sulla conduzione. Negli scorsi giorni sono spuntati fuori vari nomi, come quello di Belen, Di Mara Vignie e Simona Ventura. . In ogni caso, ad oggi, sembra essere proprio la Rodriguez la favorita. Nel corso delle ultime ore, però, un nuovo nome ci lascia tutti senza parole. . . Belen Rodriguez o Anna Safroncic ha il grande fratello? Nuovi gossip. . A quanto pare, Belen non sembra essere più lunica favorita. . Su davidemaggio.it leggiamo infatti un grande e inaspettato gossip. . Sembrerebbe proprio che la Rodriguez se la stia giocando contro Anna Safroncic. . Per l'attrice potrebbe essere arrivato il momento di mettersi in gioco con qualcosa di nuovo, come appunto la conduzione di un reality show molto importante come lo è il grande fratello. . Il suo volto è inoltre molto amato dal pubblico di Canale 5 per essere stata colonna portante e protagonista indiscussa delle tre rose di Eva. . . In ogni caso, si tratta soltanto di un piccolo rumor stutto da confermare e ufficializzare. . . La presenza di Anna anziché quella della Rodriguez comporterebbe anche una ventata di aria nuova. . Grande fratello, Belen o Anna? . In attesa di scoprire che condurrà il GF normale, la versione VIP continua a riscuotere davvero molto successo. . . Ricordiamo anche che il vincitore della prossima edizione si aggiudica automaticamente un posto all'interno del cast della prossima edizione dell'Isola dei Famosi, ovviamente condotta da Alessia Marcuzzi, eccetto cambiamenti dell'ultimo minuto. . . Non ci resta perciò di attendere maggiori news. . .